Ugo Campagnaro, ristabilitosi dai problemi fisici, domenica sei tra gli aerorabili per la gara con il Milan, ci terresti davvero tanto a scendere in campo? Sì, a scendere in campo sempre, questa cosa è importante per poter dare il contributo più vicino alla squadra tra l'altro. Poi sì, sarebbe la prima partita del giro nel ritorno, purtroppo i problemi fisici mi hanno tenuto fuori un pochettino ultimamente, però adesso mi sono messo a posto e sono disponibili per giocare. Una gara di grande fascino con il Milan, soprattutto per te che hai giocato con l'Inter, un derby? Sì, forse può essere qualcosina in più, però il Milan è una squadra importantissima, sicuramente carica qualcosina in più delle altre partite, al di là di che tutti quanti bisogna affrontarle al massimo, quando trovi una grossa squadra davanti la carica di più, però bisogna fare, come ti dicevo prima, sempre al massimo, questa è una partita importante e cercheremo di fare il meglio di noi. Ci credete ancora in questa salvezza che avrebbe davvero del miracoloso? Sì, avrebbe del miracoloso e purtroppo ci troviamo in una situazione molto complicata, però nel calcio si vede di tutto e magari facendo qualche partita bene, se ci gira un po' meglio, possiamo avvicinare qualche squadra e dopo vedere in qualche scontro diretto di giocarcela, però è difficile ancora e bisogna cercare di fare punti, guardare più vicino, guardare già il Milan, iniziare a fare qualche punto già di questa partita qua. Domenica ritroverete uno stadio pieno, ci saranno però anche tanti tifosi milanisti, ma giocherete in una cornice davvero imponente? Sì, questo è anche importante, come ti carica il Milan, ti carica anche una curva piena, uno stadio pieno e questo e questo bisogna cercare di tirarla al nostro favore, non soffrirla, che ci è capitato in qualche partita, allora cercare mentalmente di essere al massimo, tranquilli e cercare di fare il nostro gioco. Ugo, l'ultima si guarda anche alla prossima stagione, tu hai il contratto in scadenza, però hai detto più volte di essere disposto, disponibile a restare anche a Pescara, anche in Serie B. Sono stato anche in Serie B l'anno scorso e per me, io mi trovo bene in questa città. Hai avuto già qualche contatto con i dirigenti? Ma no, contatti no, però loro sapranno che non ci sono problemi, possono aspettare anche alla fine, non è che devono, dobbiamo parlare prima, mi trovo bene qua e non ci sono problemi per continuare, poi se non si dà a cercare qualcosa altro.